Bilancio più che positivo per la due giorni di scherma organizzata dal Circolo Pettorelli al quartiere fieristico di Piacenza Expo. Tra 120 in tutto gli atleti saliti in pedana, dopo l'antipasto di sabato con i trofei giovanili, domenica è stata la volta del piatto forte con i campionati regionali assoluti a squadre. Il Circolo Pettorelli piazza un sesto posto con le sue ragazze e un ottavo e un nono posto per le due squadre maschili. Il trofeo intitolato Giuseppe Spezia va dunque al Circolo della Scherma Imola, secondo il Circolo Schermistico Forlivese e terza la Società Schermistica Lughese SD, mentre il trofeo Comec 2 se lo giudica la Società Schermistica Lughese SD, argento per la squadra del Circolo della Scherma Imola e bronzo per il Circolo Ravennate della Spada. Termina così dunque il weekend che ha visto la sua punta di diamante per quanto riguarda il Pettorelli in Stefania Perna che ha vinto il Trofeo Paverti Spada Mista Coppie e la Coppa intitolata Sandrino Bernardelli. Il bicchiere mezzo vuoto è che non abbiamo portato a casa medaglie. Parlo del campionato regionale. Dal punto di vista invece della crescita e dell'esperienza che abbiamo fatto fare i nostri ragazzi, considerando che oggi avevamo diversi esordienti, abbiamo fatto esordire gli under 17 in una gara assoluta, quindi questo è molto positivo anche per come si sono comportati. Ma la soddisfazione grande è arrivata ieri da Stefania Perna, che ha vinto in coppia con Federico Bollati la gara coppie, 32 coppie partecipanti, quindi Piacenza ha portato a casa la Coppa Bernardelli per l'atleta femminile che ha vinto il trofeo femminile a coppia. E adesso nel Mirino ci sono i campionati italiani che saranno proprio qui la prossima primavera. Assolutamente sì, abbiamo già testato questi impianti con questi campionati. A maggio avremo veramente un evento bellissimo, importante, che ci coinvolge come società, come club, ma anche come città di Piacenza.